Maria, la vogliamo sentire così, di casa, mentre parla il nostro dialetto, esperta di tradizioni antiche e di usianze popolari, che attraverso le coordinate di due o tre nomi ricostruisce il quadro delle parentele e finisce col farti scoprire con sanguigno con quasi tutta la città. Vogliamo vederla così, immersa nella cronaca paesana, con gli abiti del nostro tempo, che non mette soggezione a nessuno, che si guadagna il pane come le altre, che parcheggia la macchina accanto alla nostra, donna di ogni età, a cui tutte le figlie di Eva, quale che sia la stagione della loro vita, possano sentirsi vicine. Vogliamo immaginarla adolescente, mentre nei merigi d'estate risale dalla spiaggia, in bermuda, bruna di sole e di bellezza, portandosi negli occhi limpidi un frammento dell'adriatico verde. È d'inverno, con lo zaino colorato, va in palestra anche lei, e passando percorso Umberto saluta la gente con tenerezza, e ispira, in chi la guarda, nostalgie di castità, e conversa nel cerchio degli amici, sul viale più undicesimo, la sera, e rende felici gli interlocutori, che la ripagano con sorrisi senza malizia, e va a braccetto con le compagne, e ne ascolta le confidenze segrete, e le sprona ad amare la vita. Vogliamo darle uno dei nostri cognomi, Salvemini, Tattoli, Minervini, Gadaleta, Carabelese, Altomare, Decandia, Pansini, e pensarla come alunna di un nostro liceo, o come operaia di un maglificio della nostra città, o dattilografa, nello studio del commercialista di fronte, o commessa in una boutique di Corso Margherita. Vogliamo sperimentarla mentre passa per le strade del centro storico e si ferma a conversare con le donne di via Menente, o incontrarla al cimitero la domenica mentre depone un fiore ai suoi morti, o mentre il giovedì si rega al mercato e tira sul prezzo anche lei, o quando, alla mezza, con tutte le altre madri davanti al Manzoni, attende che il suo bambino esca da scuola per portarselo a casa e ricoprirlo di baci. Non la vogliamo, ospite, ma concittadina, interna ai nostri problemi comunitari, preoccupata per il malessere che scuote Molfetta, ma contenta anche di condividere la nostra esperienza spirituale, contraddittoria ed esaltante, fiera per lo spessore culturale della nostra città, per le sue chiese, per la sua arte, per la sua musica, per la sua storia, e gioiosa di appartenere al nostro ceppo di contadini, di naviganti, di esuri inguaribilmente stregati dalla loro terra natale. Maria la vogliamo sentire così, tutta nostra, ma senza gelosie, molfettese, puro sangue, che a Natale canta la santa allegrezza e in quaresima il vexilla regis, con le stesse cadenze delle nostre donne che sfilano in processione con le lampade accese. La vogliamo nelle nostre liste anagrafiche, nei sogni festivi e nelle asprezze feriali, sempre pronta a darci una mano, a contagiarci della sua speranza, a farci sentire con la sua struggente purezza il bisogno di Dio, e a spartire con noi momenti di feste e di lacrime, fatiche di vendemmi e di frantoi, profumi di forno e di bucato, lacrime di partenze e di arrivi, come una vicina di casa, dei tempi antichi, o come dolcissima inquilina che si affaccia sul pianerottolo del nostro condominio, o come splendida creatura, che è al domicilio sotto il nostro stesso numero civico e riempie di luce tutto il cortile. Santa Maria, donna dei nostri giorni, vieni ad abitare in mezzo a noi. Tu hai predetto che tutte le generazioni ti avrebbero chiamata beata. Ebbene, tra queste generazioni c'è anche la nostra, che vuole cantarti la sua lode non solo per le cose grandi che il Signore ha fatto in te nel passato, ma anche per le meraviglie che Egli continua a operare in te nel presente. Fa che possiamo sentirti vicina ai nostri problemi, non come Signora che viene da lontano a sbrogliarceli con la potenza della sua grazia, o con i soliti moduli stampati una volta per sempre, ma come una che gli stessi problemi li vive anche lei sulla sua pelle, e ne conosce l'inedita drammaticità, e ne percepisce le sfumature del mutamento, e ne coglie l'alta quota di tribolazione. Santa Maria, donna dei nostri giorni, liberaci dal pericolo di pensare che le esperienze spirituali, vissute da te duemila anni fa, siano improponibili oggi per noi, figli di una civiltà che dopo essersi proclamata post-moderna, post-industriale e post-nonsoché, si qualifica anche come post-cristiana. Facci comprendere che la modestia, l'umiltà, la purezza sono frutti di tutte le stagioni della storia, e che il volgere dei tempi non ha alterato la composizione chimica di certi valori, quali la gratuità, l'obbedienza, la fiducia, la tenerezza, il perdono. Sono valori che tengono ancora e che non andranno mai in disuso. Ritorna perciò in mezzo a noi e offri a tutti l'edizione aggiornata di quelle grandi virtù umane che ti hanno resa grande agli occhi di Dio. Santa Maria, donna dei nostri giorni, dandoti per nostra madre, Gesù ti ha costituita non solo conterranea, ma anche contemporanea di tutti, prigioniera nello stesso frammento di spazi e di tempo. Nessuno, perciò, può addebitarti distanze generazionali, né gli è lecito sospettare che tu non sia in grado di capire i drammi della nostra epoca. Mettiti allora accanto a noi e ascoltaci mentre ti confidiamo le ansie quotidiane che assillano la nostra vita moderna, lo stipendio che non basta, la stanchezza da stress, l'incertezza del futuro, la paura di non farcela, la solitudine interiore, l'usura dei rapporti, l'instabilità degli affetti, l'educazione difficile dei figli, l'incomunicabilità perfino con le persone più care, la frammentazione assurda del tempo, il capogiro delle tentazioni, la tristezza delle cadute, la noia del peccato. Facci sentire la tua rassicurante presenza, o coetanea dolcissima di tutti, e non ci sia mai un appello in cui risuoni il nostro nome nel quale sotto la stessa lettera alfabetica non risuoni anche il tuo e non ti sia da rispondere presente, come un'antica compagna di scuola.